Un buon inizio di giornata a tutti voi da parte mia e di tutta la nostra redazione. Eccoci al primo appuntamento con la nostra informazione del mattino. Cominciamo dalla commemorazione avvenuta nella prima seduta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ieri presieduta da Giorgia Meloni che ha aperto i lavori ricordando la tragedia di San Giuliano. Abbiamo voluto ricordare i 27 bambini e la maestra, ha detto Giorgia Meloni, anche per l'impegno e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Sentiamo le sue parole. L'ultima cosa che vi devo raccontare di questo Consiglio dei Ministri è che noi abbiamo aperto il Consiglio dei Ministri tributando ovviamente il nostro pensiero a un anniversario particolare che ricorre oggi al ventennale di una delle stragi dei fatti che ci hanno colpito di più nella storia d'Italia. e cioè la vicenda dei 27 bambini e della maestra che vent'anni fa a San Giuliano di Puglia in Molise sono morti per il crollo di una scuola faticente. E lo abbiamo fatto anche per ricordarci l'impegno che abbiamo in tema di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Una giornata quella della memoria celebrata nel ricordo a San Giuliano di Puglia in occasione del ventennale del terremoto. Il ministro dell'istruzione Valditara ha ammonito. Non sia la scuola più un luogo di tragedia. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Una ferita che non può rimarginarsi anche a distanza di 20 anni ma che al contrario si riapre ogni 31 ottobre provocando lo stesso sgomento e l'identico indicibile dolore all'idea di quello che è stato pochi attimi dopo le 11.32 di quella terribile mattina a San Giuliano di Puglia. Una mattina in cui attimi sono stati scanditi nel ricordo ancora nitido rimesso a fuoco nella giornata della memoria. I rintocchi della campana degli angeli hanno infranto per alcuni minuti il silenzio che circonda il cimitero e quei 27 loculi da quelli lo sguardo immobile dei bambini rimasti sotto le macerie arriva come una lama nel cuore. La scuola non si ha più un luogo di macerie ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara rivolto alle famiglie delle vittime e all'intera comunità. A lui ha fatto eco il ministro dell'interno Piantedosi che ha fatto arrivare al sindaco Ferrante il cordoglio del governo. Ma vent'anni dal crollo della Iovine gli appelli della politica rinnovano promesse che a volte si scontrano con la realtà. È stato il capo della protezione civile Curcio da mettere a margine della commemorazione delle vittime che molto è stato fatto in questa direzione ma che ancora tanto lavoro in tema di sicurezza deve essere fatto. Un argomento su quale hanno insistito tutti e quattro i parlamentari molisani cesa, lo tito della porta e l'ancellotta si sono strette attorno ai familiari dei bambini e ha invocato edifici pubblici antisismici. Gli interventi di messa in sicurezza delle scuole sono stati ricordati anche nella commemorazione avvenuta in Consiglio regionale. Poi la fiaccolata che ha attraversato il paese di Laniato che sebbene sia stato ricostruito presenta segni inequivocabili di modernità sconta ancora fratture di visione che appaiono difficili da sanare. Le parole del Vescovo di Termo le aiutano a sperare. Quei bambini, ha detto Gianfranco De Luca, oggi non soffrono ma fanno festa nel giardino riservato alla schiera dei santi martiri innocenti. E la misericordia, ha concluso De Luca, aiuta a legnare il dolore. Siamo ai dati della pandemia. Due vittime nelle ultime 24 ore, un novantenne di Isernia e una donna di 95 anni, di San Giuliano del Sannio. Entrambi erano ricoverati nel reparto di malattie infettive. Due nuovi ricoveri nello stesso reparto, mentre i casi sono 94 su 499 tamponi con il tasso di positività al 18%, 8 persone sono guarite, gli attualmente positivi in Molise sono 4397. Al Cardarelli i pazienti ricoverati sono 6, le vittime dall'inizio della pandemia sono salite a 686. E con questa notizia ci fermiamo, ma diamo ora uno sguardo ai giornali online e a quelli che troveremo in edicola con la rassegna stampa. Siamo al giornale del Molise, che torna sulla tragedia di San Giuliano. Meloni e i ministri commemorano le vittime a Palazzo Chigi, poi il ministro dell'Istruzione, mai più tragedie simili, pronto un piano di edilizia antisismica e in Consiglio regionale celebrata la giornata della memoria. Poi il bollettino Covid, due pazienti deceduti al Cardarelli, 94 i nuovi contagi. Secondo la lettura dei giornali, cominciamo con quelli locali. Primo piano, apre con la commemorazione a San Giuliano, 20 anni dopo, dolore senza fine, alle 11.32 i rintocchi della campana del cimitero e le sirene dei soccorritori, poi la deposizione delle corone al parco, dove il 31 ottobre crollò la iomine a Palazzo D'Aimola, commemorazione del racconto della giornata nella memoria e un minuto di silenzio in apertura del Consiglio dei Ministri. Anche Conte scrive al Comitato Vittime, oltre a tutte le istituzioni che abbiamo visto, visto uccise la ex il GIP di Frosinone, dispone il giudizio immediato, omicidio di Cesare, e a lungo rischio all'ergasto, la prima udienza il 2 febbraio. Siamo al messaggero d'Abruzzo, governo colpo dell'Aquila, è il titolo di apertura, nominati i sottosegretari l'Avvocatessa Bergamotto, area dei Fratelli d'Italia, e Deramo della Lega, il coordinatore del Carroccio all'Agricoltura, l'esperta di economia alle imprese. Andiamo a vedere nel dettaglio le pagine interne, cominciamo da quella di Chieti, pronto soccorso, serve cambiare, è il titolo di apertura, e come parla il nuovo primario Tafuri, ecco il mio piano per ridurre le code e i disagi, dicevo come vedete nel cassettone, nel governo entrano due abruzzesi, ripresa la notizia di apertura, scelti i sottosegretari, Deramo all'Agricoltura, Bergamotto allo sviluppo economico, e poi la tragedia dei 27 angeli e della maestra, anche qui le commemorazioni di San Giuliano, con l'Abruzzo che partecipa al giorno di dolore, l'Abruzzo segnato dalla tragedia del terremoto dell'Aquila e poi della Marsica. Dalla pagina di Chieti a quella di Teramo, il parco del Gran Sasso, torna Navarra, Teramo, decisione del Consiglio di Stato, rimette l'ex Presidente alla guida dell'ente, il bollettino Covid, di spalla, case attivi, alti in ospedale, rimane l'obbligo delle mascherine, da Teramo ci spostiamo a Pescara e l'apertura è nuove regole per i tavoli all'aperto, il Comune obbliga gli esercenti a installare i pannelli in vetro, ma è politica. e poi nel richiamo dello sport il Pescara vuole il primo posto e ora punta sull'Adriatico in Serie C. Gli abruzzesi sono nelle zone alte della classifica. Chiudiamo con il centro di l'Aquila con la pagina dedicata all'Aquila, cimitero, ricostruzione al palo, centinaia di salme da spostare, gli intoppi riguardano i lavori per i nuovi loculi e anche qui come vedete il governo che riporta in carica due Aquilani e poi le commemorazioni di San Giuliano di Puglia. Lasciamo i quotidiani locali e andiamo sul Corriere della Sera le misure per Covid e sicurezza sono i punti su cui si è concentrato il primo Consiglio dei Ministri Meloni mi aspetto lealtà ora c'è da correre per la manovra scelta la squadra dei vice dei sottosegretari in corsia i medici Novax resta la mascherina negli ospedali e nell'RSA stretta sui raduni e su il prodotto interno lordo Giorgetti tutelare famiglie e imprese nella foto centrale concluso il rave di Halloween i giovani hanno abbandonato l'area a Modena sgomberato il capannone gli occupanti fanno le pulizie i riflettori sono rimasti accesi per due giorni su questo evento che non era autorizzato insomma non è successo poi alla fine nulla di grave la notte dei diritti e il titolo di apertura di Repubblica che appunto resta sulle prime decisioni della Meloni il governo vara un nuovo reato sei anni di carcere per chi va ai rave Fratelli d'Italia voleva intercettare i ragazzi stop da Tajani approvare le regole per mantenere l'ergastolo ostativo la premier le mafie lo temono gli avvocati incostituzionale sanatoria per medici e infermieri i Novax torneranno in ospedale nel taglio centrale il voto in Brasile torna Lula ma Bolsonaro non accetta la sconfitta dica di aver perso effetto Lula sulla sinistra la festa dei sostenitori dopo la vittoria incarcerato ingiustamente da insomma una serie di circostanze è tornato per la terza volta in carica alla guida del Brasile sulla prima pagina invece del Sole 24 Ore quotidiano di Confindustria riportiamo la barra sui numeri sul Pilla Sorpresa più 0,5% crescita acquisita più 3,9% il boom del turismo spinge il terzo trimestre la fotocentrale è una piazza di Trevi Fontana di Trevi super affollata come vedete più 75% il ritorno degli stranieri andiamo a vedere nel dettaglio smentite tutte le previsioni negative l'economia cresce da 21 mesi consecutivi presenze turistiche più 75% rispetto a un anno prima piazza affari vola più 9,7% a ottobre e poi il turismo grazie a una stagione più lunga grazie al clima nelle città d'arte tornano gli americani proseguiamo proseguiamo i viceministri i viceministri e i sottosegretari entrano sgarbi e rauti fuori barelli diciamo non ci sono molisani come era stato detto o comunque pronosticato alla vigilia il taglio centrale del messaggero è sullo sport perché la Roma ieri ha vinto nel posticipo bebi volpato uno squillo per il derby in 11 contro 10 per tutto il secondo tempo la Roma sbanca Verona decisivo il 18enne da Roma a Torino con la stampa Meloni legge e ordine è il titolo di apertura abbiamo già visto insomma i provvedimenti giro di vite fino a 6 anni per i rave raduni con più di 30 persone piante dosi predappio si fa da tanti anni nel taglio centrale lo sguardo su quello che accade a livello internazionale il mio Lula un eroe verde è il commento di Carlo Petrini nuovo presidente del Brasile e poi l'Ucraina muore di sete anche questo è un effetto del conflitto il fatto quotidiano giornale di area 5 stelle l'armata Branca Meloni è il titolo parafrasando insomma un film che ha fatto la storia del cinema italiano nomi di alto profilo Sisto legale di Berlusconi Sgarbi condannato per truffa e Montaruli per peculato più Durigon e Bergonzoni così travaglio merito 39 viceministri e sottosegretari c'è pure il badante della fascina la compagna di Berlusconi e nel cassettone la vittoria di Lula e la situazione dell'Ucraina uomini e topi Kiev dimentica Izium all'inferno dal fatto quotidiano a Libero giornale diciamo così adesso filo governativo Soros foraggia la sinistra il famoso banchiere ungherese americano di adozione soldi stranieri per fermare Georgia Calenda rivela che il finanziere ha dato a più Europa un milione e mezzo per fare un listone antifascista altro che fondi russi al centrodestra la lista dei 39 sottosegretari ora il governo è fatto e nel taglio centrale la scalata di Sumahoro Fazio lancia il nuovo leader del PD diciamo salito all'onore delle cronache per il tu con il quale gli si era rivolta la Meloni insomma deputato del partito democratico in prima pagina sul Libero Fratelli d'Italia diciamo organo di riferimento scusate il secolo d'Italia organo di riferimento di Fratelli d'Italia titola sui provvedimenti della presidenza del Consiglio dei Ministri dai rave parti al covid la destra imprime la svolta che poi insomma non è stata così radicale come era nelle previsioni andiamo al manifesto cattivi consigli è il titolo del quotidiano comunista che riassume i provvedimenti in questo modo i primi provvedimenti del Consiglio dei Ministri sono contro i rave carcere e multe per chi organizza le maratone musicali poi per decreto interventi su riforma cartabia ergastolo stativo in direzione contraria alla consulta e covid tornano in servizio i medici non vaccinati nel cassettone il manifesto parla di elettricità e acqua nel mirino russo come abbiamo visto in Ucraina anche problemi legati alla sete chiudiamo questa carrellata con il quotidiano della conferenza episcopale Meloni fa la sua musica titola avvenire confermato l'ergastolo abbiamo visto e poi nel taglio centrale navi lasciate a largo 223 bambini bloccati le organizzazioni non governative non autorizzate all'approdo insomma è un segnale sul fatto che qualcosa sta cambiando speriamo invece che i bambini e le navi vengano portate dove devono stare e cioè sulla terraferma la gazzetta dello sport conclude la nostra rassegna stampa abbiamo detto ieri giornata di posticipi ma la gazzetta si mette avanti e titola sul rinnovo del contratto di Pioli mister milan fino al 2025 la firma un premio se vince la champions ci siamo rotti è il titolo invece cassettone che riguarda due stelle nella juventus Pogba e dell'inter Lukaku torneranno nel 2003 il calvario senza fine di due campioni Paul dall'addio pure al mondiale Romelu si ferma ancora ma spera nel Qatar l'ultimo turno di champions con le due italiane già qualificate Inter e Napoli prestigio non solo in casa del Bayern pensando alla Juve Napoli Spalletti fa paura ai Reds al Liverpool Klopp può alzare la coppa e insomma gli scongiuri a Napoli saranno parecchi immaginiamo chiudiamo con i motori e l'invasione rossa a Valencia domenica il gran premio decisivo con Pecco Bagnaia che se fa tre punti vince matematicamente il mondiale di MotoGP c'è anche Valentino Rossi a tifare per la Ducati e con questo ci fermiamo vi diamo appuntamento ai nostri TG grazie per essere stati con noi da parte mia e della nostra redazione una buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.